Le azioni, le famose azioni di cui abbiamo parlato sopra, più sopra nella scaletta, le azioni sono interessanti anche loro perché, come ho detto prima, find, elenca, stampa video, oppure possiamo salvare anche in un file il risultato della ricerca di find, però poi abbiamo un elenco, appunto. Su questi file non ci abbiamo ancora fatto nulla, li abbiamo semplicemente identificati, ma find va più in là e ci permette di applicare delle azioni su questi file, quindi di farci proprio qualcosa, non solo di fermarsi al fatto di identificarle. Ecco che un'azione possibile, quella tra virgolette più pericolosa, è il delete, quindi addirittura noi possiamo creare un filtro con find, aggiungeci l'azione delete e questo ci cancella automaticamente quei file che sarebbero elencati. Ho messo un'attenzione bello qui in giallo perché i file che si cancellano con quest'opzione, con quest'azione, non finiscono nel cestino, ma vengono cancellati direttamente. Quindi, mi raccomando, poi non lamentatevi con me, provate per bene il comando senza l'azione, per capire se il filtro è proprio quello giusto, scrutate bene il risultato del vostro comando find e poi solo in ultimo aggiungeteci l'azione delete, perché se no, ciao ciao file. Per esempio, il comando find che voglio usare per dimostrarvi l'effetto di delete è questo, dico find tipo file, quindi tensione, escludo già le cartelle perché se no sarebbe un disastro ancora peggiore, tipo file che abbiano il nome che inizia con V maiuscolo U, e mi elenca il famoso file vuoto che ho qui, quello con dentro niente. A questo comando find, una volta stabilito che è giusto il risultato che ottengo, voglio proprio cancellare quel file lì, mettiamo che ce ne siano anche 200 di quei file lì che iniziano con VU, ok sono quelli, a questo punto posso aggiungerci alla fine l'azione delete e dirgli ok, me li trovi e me li cancelli e pure. Quindi faccio così, qui non mi elenca più niente, non mi fa più vedere niente, però ecco che il file vuoto è sparito, me l'ha cancellato e non è nel cestino garantito perché se ne è andato, cancellato. Azione delete, poi magari il file vuoto me lo ricreo semmai che l'ho bisogno per qualche esempio più tardi, non mi ricordo però me lo ricreo, un file vuoto è lì di nuovo adesso. Avete visto potenza del comando find e non abbiamo ancora parlato delle espressioni regolari perché questo comando è veramente molto dinamico, molto malleabile come potete vedere. E non sono neanche tutte le opzioni quelle che vi ho mostrato, poi interessante anche la seconda azione possibile è execdir, comando, parentesi graffe e un punto e virgola con una barra alla fine. Ecco, questa sintassi, questa particolare sintassi permette di eseguire il comando che noi gli indichiamo per ogni file trovato. Quindi cosa succede? Il comando find ci elenca, che ne so, questi file e grazie a questa opzione esegue, prende in carico a uno a uno i file che trova e li dà in pasto al comando che noi gli indichiamo qui. Quindi vediamolo subito con un esempio, quindi forma per bash, qui c'è una piccola distinzione fra la shellfish e la shellbash, nella shellfish bisogna aggiungere un paio di barre rovesciate per non far interpretare le parentesi graffe, farle prendere come parentesi graffe. Quindi tutto lì la differenza, non è che sia chissà che, comunque io prendo quello per phish, visto che uso phish. Cosa fa questo comando? Mi cerca i file che hanno un nome che iniziano con G maiuscolo e che finiscono con .txt e per ognuno dei file che trova gli dico di eseguire il comando tail-5 e poi c'è questa sintassi finale che è necessaria così per far funzionare il tutto. Questo è fisso questa parte finale, dopo il comando, le due parentesi graffe, lo spazio, la barra rovesciata e il punto e virgola sono fissi. Quindi, ripeto rapidamente, le due barre rovesciate qui, prima di ogni parentesi graffa, serve solo la shellfish, nella shellbash non sarebbero necessarie queste. L'unica che è necessaria anche per la shellbash è questa barra rovesciata per il punto e virgola. Questo è fisso così, ma lo vedete qui nella scaletta, la differenza tra i due. Comunque faccio Enter e cosa è successo? Vedete che mi ritrovo un po' di testo stampato a video. Da dove viene questo testo stampato a video? Viene da i file che trovano in questa cartella che iniziano con G maiuscolo e finiscono con txt in poche parole questi due file. Ne ha trovati due. Per ognuno di quei due file ha eseguito il comando tail-5. Ecco, credo che ormai sappiate che tail è un comando che permette di stampare, partendo dalla fine di un file, un certo numero di righe. Quindi tail-5 vuol dire stampa per ognuno dei file che trovi le ultime 5 righe. Ed ecco che abbiamo 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Adesso sono 10 righe in tutto, quindi 5 vengono da questo file e 5 da questo. Possiamo aprirne uno giusto come prova per vedere che sia vero quello che dico. Vediamo un po', ne apro uno. 1, 2, 3, 4, 5. Eccole lì. E l'altro, che è un po' più lungo. Uno è proprio di 5 righe. Uno non contiene neanche niente di più, ma l'altro è più lungo. Vedete che ci sono le ultime 5 righe. Vedete, nota questa chiave fino a qua. Le ultime 5 righe, vedete. Quindi questo è molto potente come comando, perché ci permette di filtrare un determinato numero di file, comando find, e poi di farci qualcosa, di eseguire qualcosa. Qui ho semplicemente fatto una stampa video, ma potrebbe essere una qualsiasi altra cosa, ecco, insomma, qualsiasi altro comando. Vedete come è molto potente find, eh? La stessa cosa, più o meno, la si ottiene anche con l'opzione ok dir. Ok dir cosa fa? Praticamente, lo scopo finale è uguale a quello di exec dir, ovvero, è anche la sintassi uguale, ovvero di far eseguire un comando per ogni file trovato. Ma in più, non esegue direttamente il comando, ma per ogni file ci chiede vuoi farlo per questo file, sì o no. Quindi ok sta per dire dammi la conferma prima che io esegba il comando. Allora, rifaccio lo stesso comando, ma al posto di exec dir ci metto ok dir. E adesso vedrete cosa succede, che per ogni file che trova mi chiede la conferma prima di fare il comando tail-5. Tail-5. E voilà, eccolo qua. Allora, lui mi dice dovrei eseguire il comando tail, mi l'hai detto tu, su questo file, generazione chiave PGP. Lo faccio o non lo faccio? A questo punto, siccome il nostro sistema capisce l'inglese di sicuro, e se è localizzato in italiano, anche l'italiano, possiamo rispondere con una di queste lettere. S maiuscola, S minuscola, Y maiuscolo, Y minuscolo, che stanno semplicemente per Sì, oppure per I S. Qualsiasi altra cosa, anche il semplice Enter, senza, senza dirgli niente, qualsiasi altra cosa, per lui vuol dire non eseguirlo. Quindi se faccio Enter, vedete che non mi ha stampato niente a video. È passato al prossimo file, al secondo che ha trovato con la G maiuscola. A questo punto gli dico di sì, fallo pure, e vedete che per il secondo file mi ha stampato le cinque ultime righe. Quindi è ancora più raffinato, diciamo un passo in più. L'execdir li esegue brutalmente senza chiederci niente. Quindi se siamo sicuri di quello che facciamo, possiamo fargli fare in massa un'operazione senza che si fermi ad ogni file. Ma se non siamo sicuri, o se in un insieme di file sappiamo che solo per un determinato numero di file vogliamo far fare una certa operazione, ma non per altri, possiamo tranquillamente usare OKDEAR che lui si ferma ad ogni file e ci chiede per questo sì, per questo no, per questo sì, per questo no. Non male, veramente non male questa cosa. Poi ci sono ancora un paio di... prima di arrivare all'espressione regolare ci sono ancora un paio di opzioni così per conoscenza, tipo questa, meno LS e meno FLS che elencano i file filtrati come farebbe il comando LS praticamente. Quindi se noi facciamo questo, vedete che lo elenca un po' come farebbe appunto il comando LS meno L con tutti i dettagli, elenco l'azione meno LS in fondo. Semplicemente un tipo di elenco diverso dei file, vedete il nome del file arriva poi in fondo e c'è tutto davanti, il proprietario, il gruppo, i diritti di accesso, esattamente come il comando LS, così simula il comando LS, direttamente nell'ambito di find. L'opzione FLS è identica a LS soltanto che scrivi in un file, gli si deve indicare il file. Quindi lo facciamo almeno una volta, poi così. Il file PIPA, il file PIPA contiene a questo punto la stessa riga che vediamo qui perché l'ha scritta direttamente nel file. Eccolo qua, il file PIPA. Vabbè, che serva, non serva, questo è uguale. Comunque da sapere che c'è, può essere utile in determinate situazioni. Analogamente c'è anche il comando PRINT che stampa a video, naturalmente, i file che trova. Implicitamente è la stessa cosa che se non gli metto PRINT. L'azione PRINT fa la stessa cosa che senza, eh. Se tolgo PRINT vedete che fa esattamente la stessa cosa. Quindi è un po' come dire, il PRINT è l'azione per difetto che fa il comando FIND quando noi lo usiamo. Non ce ne rendiamo conto ma in realtà fa un PRINT. Di PRINT c'è anche la forma FPRINT che fa la stessa cosa ma scrive direttamente in un file analogamente all'LS di prima. Quindi non sto qui a farlo ma sappiate che è la stessa cosa. Qui avete tutti gli esempi in scaletta. Poi c'è l'opzione PRINT 0 e FPRINT 0 che scrive sul file quindi sempre analogamente. Ecco, la seconda forma dei comandi scrive l'output in un file, dico. L'unica differenza è quella. La differenza fa PRINT e PRINT 0 dove sta la forma con il finale 0 separa ogni nome di file con un carattere nullo ovvero non li separa praticamente. Li scrive tutti su una sola riga. Mentre la forma per difetto senza 0 stampa i file separati da un a capo esattamente come li vediamo qui uno sotto l'altro. Se io uso la forma PRINT 0 quindi non PRINT ma PRINT 0 vedete che i file non sono più elencati uno sotto l'altro come magari siamo più abituati a vedere ma uno attaccato all'altro perché il carattere nullo in mezzo non li separa più quindi tutto come se fosse una grande stringa avessimo mille nomi di file si creerebbe uno stringone di mille per chissà quanti caratteri di mille file tutti attaccati assieme. Ecco, a dipendenza della situazione pratica con cui siamo confrontati può servire avere un file alla volta per rielaborarli così come avere tutto in una stringa unica magari per poi elaborare questa stringa con SED o con OUK o con un altro editor non lo so comunque a dipendenza della situazione può essere utile o necessario avere il risultato in verticale o in orizzontale tutto attaccato assieme giusto da sapere che c'è questa opzione semplicemente aggiungendo uno 0 al formato dell'azione PRINT ok e poi vabbè qui ho messo anche una nota su come gestire questo carattere nullo perché in realtà qui non lo vedete stampato a video ma c'è un carattere nullo che viene scritto da tastiera con la barra rovesciata e uno 0 ecco questa è la forma con cui indichiamo il carattere nullo un po' come barra rovesciata N sta per la capo barra rovesciata 0 sta per il carattere nullo ecco se apriamo il risultato di questo comando find nell'editor nano per esempio vediamo in realtà che il carattere nullo ce lo mostra con un cappellino chiocciolina che non ha niente che è il modo in cui nano ci fa vedere un carattere nullo ecco per strano che possa sembrare comunque un carattere nullo noi se dobbiamo scriverlo o impostarlo a noi stessi un carattere nullo sappiamo che dobbiamo usare barra rovesciata 0 ma questo è un dettaglio di utilizzo ecco e finalmente arriviamo alle espressioni regolari e quindi find può sfruttare come altri comandi che abbiamo già visto le espressioni regolari per filtrare ancora in modo più dinamico specifico o particolare i nostri file che abbiamo nella cartella find addirittura ha un'opzione apposita dedicata che si chiama regex type quindi tipo di espressione regolare con il quale possiamo impostare il tra virgolette dialetto da usare fra i seguenti quindi ce ne sono svariati vedete qui quanti quindi per mezzo di questa opzione possiamo dirgli usa questo che è quello attivo per difetto e anche senza indicarlo usa questo il default oppure quello come max come ed come sed corrispondente a sed corrispondente a oak qui ci sono tre alias tre modi diversi di indicare lo stesso dialetto di espressioni regolari come oak come grep il famoso e grep e poi posic standard basic minimal extended ecco qui sono tutti abbiamo l'imbarazzo della scelta sul il come dire sul sul motore dell'espressione regolare da usare più o meno esteso ecco con find veramente abbiamo l'imbarazzo della scelta è il comando che ha più scelta di possibilità di motore di espressione regolare ecco e come come indichiamo come innestiamo un'espressione regolare all'interno di un comando find con l'opzione meno regex ecco seguita dal suo pattern ovvero dal modello di ricerca facciamo subito un esempio che così uniamo le due cose quindi in questo comando cosa abbiamo fatto abbiamo detto abbiamo scelto il dialetto di egrep quindi esteso di grep corrispondente a quello esteso di grep e poi indichiamo l'espressione regolare che è questa qui facciamo enter per vedere se mi trova qualcosa sì mi trova qualcosa vediamo perché ha trovato quei file lì allora abbiamo scelto di usare egrep allora cosa fa questa espressione regolare cerca tutti i file che hanno un nome con sole lettere minuscole e maiuscole quindi anche miste maiuscole e minuscole e pure il carattere trattino basso e che finiscono con l'estensione txt ecco quindi vediamo un po' cerca la prima parte qui la vediamo fra un attimo cerca quindi quindi con le parentesi quadre l'insieme dei caratteri da cercare nella prima occorrenza quindi tutto l'alfabeto minuscolo tutto l'alfabeto maiuscolo e il trattino basso chiusa parentesi quadra l'asterisco vuol dire zero o più di questi file quindi cerca tutto il nome e poi a concludere l'occorrenza che deve corrispondere c'è il puntino quindi come carattere non come con la barra rovesciata il puntino sta a significare il carattere non il comando dell'espressione regolare punto txt quindi l'estensione txt ed ecco che in effetti mi ha elencato tutti i file che hanno un nome con lettere maiuscole oppure minuscole e tutti che finiscono con punto txt quindi ci fossero stati dei dei file con dei numeri dentro nel nome ecco qua per esempio questo qui ubuntu offcode conduct 2.0 punto txt non c'è nel risultato perché ci sono nel nome delle cifre dei caratteri numerici che non sono previsti dall'espressione regolare vedete che li ha scremati la prima parte qui dicevo cos'è questa prima parte quella prima parte qui serve a considerare il percorso del file quello davanti al nome del file perché avete visto che find ritorna sempre tutto il percorso del file davanti che in questo caso è brevissimo perché è cartella corrente quindi puntino e la barra che finisce il percorso e poi parte il nome del file quindi find torna sempre così i suoi risultati ci fossero un percorso di 10 cartelle qui davanti avremo tutto un percorso di 10 cartelle fino all'ultima barra e poi parte il nome del file finalmente è proprio quello che sfruttiamo per come dire considerare implicitamente nell'espressione regolare che c'è un percorso davanti sul quale noi non vogliamo lavorare quindi cosa facciamo per considerare da questa barra indietro e diciamo puntino che vuol dire qualsiasi carattere sappiamo questo qui il comando espressione regolare vuol dire puntino qualsiasi carattere asterisco che vuol dire da 0 a n caratteri quindi il percorso qua questo puntino che adesso vuol dire appunto cartella corrente può essere anche lunghissimo 200 caratteri indietro di tutto un percorso lunghissimo quindi l'asterisco va benissimo puntino qualsiasi carattere e che finisca questa occorrenza con la barra questa barra qua l'ultima barra prima dell'inizio del nome del file quindi questa espressione regolare dice trovami tutto ciò che ha qualsiasi carattere davanti in una qualsiasi quantità quantità che a un certo punto contenga una barra e poi mi trova appunto vedete qui mi trova i nomi dei file quindi la prima parte qui è come dire tecnica tra virgolette per considerare tutto ciò che sta davanti al nome del file su quale poi effettivamente noi vogliamo lavorare e voilà quindi scusate un attimo metto in pausa un attimo perché ho bisogno di assentarmi un attimo ok rieccomi in onda eravamo rimasti appunto a questo fatto delle espressioni regolari che devono considerare comunque c'è già un percorso davanti a un file se vogliamo lavorare sul nome del file stesso e voilà questo era un esempio di espressione regolare integrata nel 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 nome scusate nel comando find un altro esempio per esempio è questo cerca tutti i file che hanno delle cifre nel nome quindi questo esempio non indico il dialetto delle espressioni regolari da usare perché mi sta bene di usare quello di default qui davanti il solito pezzettino per considerare il percorso poi gli dico qualsiasi carattere davanti 0 o più caratteri davanti qualsiasi carattere dietro e in mezzo da qualche parte che ci siano le cifre quindi parentesi quadre da 0 a 9 tutte le cifre con un più quantificatore più che sta a indicare che almeno una cifra deve esserci quindi è obbligatorio che nel nome del file ci sia da qualche parte una cifra quindi faccio enter e vedete che mi torna tutti i nomi di file che abbiano da qualche parte una cifra perfetto molto bene andiamo avanti con un altro esempio allora questo cosa fa ecco qui poi sono sempre voglio dire dopo due tre video più o meno dello stesso tipo qui sono variazioni sul tema le espressioni regolari le abbiamo affrontate e quindi questi esempi non fanno altro che ripresentarvi poi le medesime i medesimi concetti integrati in un altro contesto in un altro comando ma sono poi sempre praticamente le stesse cose quindi possiamo anche andare un po' più rapidamente a vedere un esempio dopo l'altro insomma le spiegazioni sono poi sempre quelle perché i concetti sono sempre quelli in questo caso cerca tutti i file che nel nome hanno almeno una lettera O o una P o una S maiuscola ecco vedete o almeno una vuol dire il quantificatore più quindi non l'asterisco che permette anche lo 0 quindi davanti qualsiasi carattere dietro qualsiasi da qualche parte in mezzo una P maiuscola una O una S vediamo un po' una O maiuscola qui c'è qui pure qui c'è la P qui c'è la S vedete che ha scremato correttamente questi casi oppure ancora un ultimo esempio ecco prima di concludere questo vedo che è un po' più lungo e complesso vediamo cosa fa questo esempio quindi cerca tutti i file che hanno una o due lettere G minuscole o maiuscole nel nome qui era solo un esempio per usare il quantitativo usare un quantificatore con le parentesi graffe giusto per fare l'esempio quindi cerca tutti i file che abbiano una G minuscola o maiuscola nel nome da qualche parte quindi e ci ho aggiunto l'azione questa volta l'azione ok dir quindi di conferma per fare un comando tail tail 6 quindi di stamparmi le ultime sei righe dei file che trova basato però su questo filtro di di espressione regolare con il quantificatore una o due vedete che il quantificatore dice basta che trovi almeno una G maiuscola o minuscola è un massimo di due quindi faccio enter vedete che mi dice sì qui ci sono due G di fila quindi è giusto la quantitativo sono due G minuscole vabbè diciamo di stampare le righe ma poi il prossimo vediamo un po' qui c'è una G c'è anche qui all'inizio una quindi uno va bene perché è una o due una G maiuscola qui non stampo niente qui anche c'è la G qui all'inizio e poi è finito il comando ecco quindi vedete che si possono integrare espressioni regolari anche con tutte le azioni e le opzioni del resto della scaletta che abbiamo visto ok come sempre vi lascio i riferimenti in rete anche per questo comando se volete o se avete interesse o necessità di approfondire con questo vi saluto e vi attendo alla prossima puntata di questo corso ciao 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 ciao